Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Grazie. La tireremo fuori, Ezli. C'è dell'altro. Hanno catturato Akan. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. È il padre della mia amica Kiyara. Non dire altro. Se venisse sacrificato... Solo degni e sapienti possono entrare in questo luogo sacro. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Passa pure.